Al villaggio per la terra sono venuti a trovarci Mattia Placidi, tuffatore, specialista della piattaforma 10 metri, campione assoluto di sincro e finalista europeo e già partecipante ai mondiali. Lorenzo Mora invece dorsista, notatore dorsista, finalista europeo e vice campione italiano assoluto e anche ancora campione italiano della categoria cadetti in carica. Mattia comincerei da te e ti chiederei che cosa siete venuti a fare voi atleti delle Fiamme Rosse, quindi dei Vigili del Fuoco qui al Villaggio per la terra 2018. Innanzitutto buongiorno, siamo venuti a fare pompieropoli come già l'anno scorso con le Fiamme Rosse e tutti gli altri corpi militari. Chiaramente adesso siamo liberi da impegni sportivi, altrimenti avremmo dovuto fare allenamenti e quant'altro. Partecipiamo a Pompieropoli, aiutiamo i bambini a fare il percorso, stiamo un po' con i bambini, diamo supporto ai colleghi e passiamo la giornata così. Prima di tutto buongiorno, buongiorno anche da parte mia, lui è arrivato stamattina, io invece sono qua da tre giorni a pompieropoli, anche io sempre ad aiutare i bambini e divertirmi un po'. Qua per le giornate della terra tutto ben organizzato e niente, sono stati cinque giorni, per me tre giorni molto divertenti e niente, è stata una bella esperienza per ora. Cosa avete fatto fare ai bambini? Spieghiamo cos'è Pompieropoli a chi non l'ha vista, è uno degli eventi più di successo da ormai tre anni qui al Villaggio per la Terra. Spieghiamo cosa fanno i bambini e soprattutto cosa vi chiedono, come ci giocate alla fine. Allora, il nostro è un percorso che simula un po' di quelle che sono le manovre che effettuano davvero i pompieri vigili del fuoco e quest'anno abbiamo la barra, il tubo e la specialità, che è quello che preferiscono i bambini, è la casa che va a fuoco, è una casa con all'interno una macchina del fumo e per spegnerla bisogna puntare direttamente l'idrante e quella è molto in voga, è quella che preferiscono i bambini. I bambini niente, ci chiedono un po' com'è essere vigili del fuoco, ci dicono in tanti che da grandi vogliono esserlo e questo è un onore, è molto molto bello. Anche vedere come i bambini apprezzano la figura del vigile del fuoco è incredibile, questo mi riempie d'orgoglio e penso... Ovviamente anche me, io poi non ho preso parola, però non essendo un veterano di Pompieropoli lui adesso è il veterano in carica, comunque sì, aiutiamo i bambini, ci fa piacere, ci divertiamo e stiamo insieme a loro. Adesso ti toccherà, da adesso in poi la giornata sarà molto intensa per te. Ricomincio da te Mattia, il vostro elemento è l'acqua, noi al villaggio abbiamo degli obiettivi da far conoscere alle persone, sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU, due sono dedicati all'acqua proprio per far capire quanto è importante questo elemento su questo pianeta, il che è anche ovvio. L'acqua pulita, il 6, lo vediamo alle vostre spalle, in realtà quello è un obiettivo che parla di acqua per l'umanità, per le persone, quindi l'avere i servizi igienici, l'acqua per cucinare, per vivere. E invece per quanto riguarda l'ambiente, il 14, la vita sott'acqua, quindi la pulizia, la salute del mare, che è il polmone, diciamo, il grande termoregolatore del nostro pianeta. Io ovviamente non vi chiedo cose da scienziati, ma in realtà voi ci vivete veramente nell'acqua, non sott'acqua, ma ogni tanto anche sott'acqua. Cos'è l'acqua nella vostra vita? Qual è il vostro sentimento verso questo elemento, che per molti di noi è soltanto un qualcosa da bere, ma voi ci passate gran parte della giornata? Sì, sicuramente l'acqua è un elemento fondamentale della mia vita, come della sua, immagino, è stato comunque un elemento fondamentale già da bambino, facendo tuffi, nuoto, ma chiunque pratica sport acquatici di alto livello, non vive senza acqua fondamentalmente, comunque ne senti proprio la mancanza, la necessità. Poi chiaramente c'è il discorso che dicevi tu del mare, che comunque è molto importante l'acqua del mare, l'inquinamento marino e tutto il resto. Noi chiaramente di acqua non ne beviamo, perché c'è il cloro e quindi non ci conviene nemmeno a un certo punto berla, però sicuramente costituisce un elemento fondamentale, ma per chiunque, al di là di noi che ci lavoriamo, però comunque è una cosa importante per chiunque, dai bambini alle persone adulte agli anziani, chiunque può... No? Vuoi dire qualcosa? Sì, dai. Ok. Io in realtà non sono un essere anfibio come lui, perché lui tuffi alla fine in acqua ci sta poi poco, è più un misto aria-acqua, un connubio. La mia è acqua, acqua, acqua. Per 35 ore settimanali io sto lì e... E la odia? Sì, no, l'amo talmente tanto che arrivo ad un certo punto che riesco ad odiarla, no, non è vero, perché anche in vacanza ho il brevetto da sub, anche in vacanza è il mio unico elemento, io non riesco a stare lontano più di due giorni dall'acqua, è proprio... mi sento a casa, molto più di quanto lo sia per ogni altro, no, ora qui seduto e per ogni altro nuotatore, penso. È proprio il mio elemento, anche una via, un metodo di sfogo da tutto, quella è casa, l'acqua. È bellissima la metafora che lui è un uccello di quelli che si tuffano in mare per prendere il pesce e poi uscirne subito perché non sono... e invece lui è proprio un pesce, diciamo. È comunque vita, l'uccello marino senza il pesce non vive mica. Esattamente, esattamente. Allora, a parte l'acqua, diciamo, vi chiedo, come a tutti gli atleti, il vostro rapporto con l'ambiente, con le buone pratiche per salvaguardarlo, per tutelarlo, per fare in modo che anche i vostri figli, che verranno fra un bel po', possano avere il piacere di tuffarsi in mare, di nuotare in un lago e di tornare magari anche a nuotare nei fiumi che adesso non sono più praticabili. Sì, per quanto riguarda l'ambiente, sicuramente è molto importante cercare ognuno di fare insomma, almeno il minimo indispensabile, ognuno il suo, voglio dire, dalla raccolta differenziata all'inquinamento delle strade, allo smog e tutto il resto. Anche come dicevi te, l'inquinamento dei fiumi, comunque, dove prima ci si poteva magari fare il bagno, e non si può più fare adesso, chiaramente, e secondo me questa è una cosa importante dove comunque tutti quanti dovremmo cercare di dare un sostegno, comunque il possibile, cercare di fare il possibile tutti quanti per non inquinare più del dovuto, perché già è inquinato il mondo abbastanza e non ci mettiamo del nostro, insomma. Riguardo l'ambiente, sì, oltre l'attenzione necessaria che diceva Mattia, io sono emiliano in realtà, vengo a Roma, sono trapiantato qua a Roma per fiamme rosse, per mille motivi, però la mia terra è l'Emilia e stiamo affrontando un percorso di raccolta differenziata molto buono, a Carpi, Modena, dove vivo io, con la raccolta differenziata porta a porta, quindi siamo molto attenti da questo punto di vista. E anche riguardo l'acqua, insomma, siamo abbastanza vicini al Po, quindi abbiamo un esempio calzante di come l'inquinamento si ha oramai ovunque, soprattutto nei fiumi e in altri impunti così. Però si può sempre migliorare, l'obiettivo è entro il 2030, anche il 2025, con calma, non sarebbe male. Poi l'obiettivo rimane quello, però passo dopo passo, secondo me, si può migliorare. Noi vi auguriamo il meglio per i vostri obiettivi sportivi che vengono molto prima del 2030, però vi diamo appuntamento all'anno prossimo al Villaggio per la Terra 2019. Grazie a tutti.